1,4 milioni di euro sono stati restituiti ai piemontesi grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e pay tv condotte dal Corecom Piemonte nel corso del 2022. Le istanze di contenzioso ricevute tramite concilia web sono state 4.683, 4.313 istanze di conciliazione e 370 domande di definizione. I dati sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa sul bilancio di attività 2022 dal presidente del Corecom Piemonte Vincenzo Lilli assieme alla vicepresidente Alessia Caserio e al commissario Marco Bria Monte. La vicinanza alla popolazione piemontese relativamente alle telecomunicazioni e all'informazione, l'attenzione e il controllo sugli operatori che danno le informazioni e i media sono le attività fondamentali e principali del Corecom Piemonte. Nel dettaglio le domande di conciliazione sono state 3.243 in udienza e 1.070 in procedura semplificata. Per quanto riguarda invece la delega di definizione, il Corecom Piemonte ha ricevuto 370 istanze, oltre alle 17 trasmesse all'Agicom per competenza e ne ha chiuse 479. Sono invece 516 le domande prevenute per procedura d'urgenza per l'attivazione del servizio sospeso. Di queste, 395 richieste sono state soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell'operatore, mentre 121 sono stati i provvedimenti temporanei. Un plauso al lavoro portato avanti dai conciliatori del Corecom Piemonte perché anche in quest'ultimo anno 2022, che si è recentemente concluso, sono stati raggiunti dei risultati importanti. È stato condotto un lavoro veramente efficace ed efficiente, da cui abbiamo riscontrato anche una piena soddisfazione da parte degli utenti che si sono rivolti al Corecom. Tra l'altro c'è stata non solo la definizione di tutte le controversie che sono state sottoposte al Corecom nell'anno 2022, ma sono state anche chiuse quelle precedenti che ancora erano in essere, quindi un lavoro egregio e allo stesso tempo, vi do un dato su tutti, sono stati restituiti solo nell'anno 2022 ben 1,4 milioni di euro ai cittadini piemontesi. Le attività del Corecom sono veramente tante, sono plurime, alcune sono meno conosciute, ma non per questo sono meno importanti, anche perché soprattutto sono volte proprio a tutelare dei diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute, il diritto di espressione, la tutela dei minori, la tutela della parità di genere, quindi la lotta alle discriminazioni. L'impegno è costante, è quotidiano ed è volto soprattutto alla prevenzione, proprio perché noi riteniamo che la prevenzione sia fondamentale per evitare che poi vengano a crearsi delle situazioni spiacevoli, per non dire dannose, che poi devono portare necessariamente ovviamente a rivolgere alle autorità competenti in funzione punitiva. Il nostro scopo è proprio quello invece di prevenire in modo da poter tutelare i cittadini in maniera sicura, certa, senza che vi siano conseguenze dannose per gli stessi.